Guercino in realtà giunse a Roma solo nel 1621 perché il nuovo pontefice, era stato Cardinale Ludovisi, in carica legatizia a Bologna ed era un suo protettore. Il dipinto che raffigura San Girolamo, che stiamo vedendo ora, è in realtà un dipinto bolognese come data di esecuzione ed è stato acquisito più tardi dalla collezione Patrizzi. Raffigura San Girolamo nell'atto abbastanza singolare di siglare una lettera con il marchio in Ceralacca e cosa abbastanza inusuale nella normale figurazione pittorica del Rinascimento e che solo lo stile barocco poteva liberare e far vivere. Nella realtà un gesto di questo genere è un gesto tutto insieme atletico, complicato, intellettuale e singolare come è appunto di questi anni la vita artistica e espressiva di Guercino che si è tolto, ancora assai giovane, dalla tradizione ferrarese ma che ancora nella tradizione estensa in qualche modo sosta. Questo è un dipinto che ricorda altri famosi pittori come Dosso Dossi per esempio celebri nella corte appunto degli estensi. L'insieme di torsioni, di dimensioni di sforzo, di narrazione della muscolarità del corpo è un pezzo di repertorio barocco, come ho detto, di forte accentuazione, quasi una retorica dell'anti-retorica, della condotta rivelatrice di un mondo che sta sempre fra fantasia e realtà. La scena avviene in un luogo eremitico come è appunto nelle scritture, sul lontano si aggira anche un piccolo leone che accompagna in genere la solitudine di San Gerolamo che in questo caso è stato mandato molto lontano, a spasso quasi in cerca di una sua eventuale augurabile preda. Un altro dipinto, un capolavoro da scoprire in palazzo Patrizzi Montoro è certamente un non grande e non piccolo rame dipinto di perfetta conservazione che raffigura San Francesco, anch'esso del Guercino, anch'esso dipinto negli anni della giovinezza e quindi intorno al 1615-16 che ha anche il potere di rimandare in maniera molto nitida l'educazione di Guercino verso il mondo dei bolognesi, perché se è vero che Guercino è pittore ferrarese e di tradizione rinascimentale ferrarese, è altrettanto vero che la cosiddetta riforma dei Carracci lo coinvolse in modo molto suggestivo facendone un pittore che normalmente si dice essere appunto bolognese. Questa figura di San Francesco è tale da richiamare specialmente l'espressività naturalistica carata dentro un paesaggio di grande bellezza di Lodovico Carracci che è stato come dire l'ala di tipo settentrionale della famiglia mentre Annibale giunto a Roma agli ordini del Cardinal Farnese procedeva al suo famoso capolavoro la volta con gli amori degli dèi in Palazzo Farnese stesso. Terzo capolavoro da scoprire in casa Patrizzi Montoro è una vergine addolorata che si può datare, si deve datare per stile e anche per annotazione nel libro dei conti. La bottega di Guercino teneva un registro intorno al 1625. E' quindi un dipinto già più accentuatamente guercinesco, scusate il pasticcio, vuol dire che già va verso una piena autonomia della maturità del Guercino che di lì a poco tra l'altro deciderà di rientrare, anzi è già rientrato a Bologna dopo la morte di Papa Ludovisi. Il dipinto è una vergine addolorata, ripeto, di grande passionalità, di forte accentuazione di quegli aspetti di cui la vergine addolorata è ovviamente portatrice, ma anche di una molto accentuata capacità fisionomica. Non si tratta agli stessi anni di ciò che per esempio concepiva Guidoreni in modo molto idealistico e quasi astratto. Si tratta piuttosto di quel forte retaggio di naturalismo padano e ferrarese che nei secoli si è tramandato e che continua a dettare una sua legge molto anche di pittura popolare, oltre che notoriamente elegante. Grazie. 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 Grazie.